Ultra Cycling Dolomitica, 606 chilometri, 16 passi montani dolomitici tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Si tratta della corsa ciclistica più dura al mondo con appuntamento il 4 settembre 2015. Dal Grappa al San Pellegrino, dal Fedai al Pordoi, dalla Valparola al Giau sono 16.000 i metri di dislivello da affrontare nell'arco di 24 ore. Un'impresa epica, incorniciata dalle montagne più belle del mondo e dedicata a Vito Favero, ciclista trevigiano dei tempi eroici di Coppi e Bartali. Le iscrizioni sono già aperte online.